Da possibile campione del mondo della Ring of Honor a pacchetto pronto per essere spedito in Giappone. Quanta roba per Eddie Kingston e adesso torna, ma come torna? Dopo questo G1 Climax del 2023 cerchiamo di fare un pochino di ordine capendo che cosa è successo proprio nella terra del sollevante per il nostro eroe. Benvenuti quindi a un nuovo video di AW Italian Podcast, io sono Stefano, la voce di questo progetto. Anche oggi sono qua per parlare di All Elite, sì, anche oggi sono qua per parlare di All Elite e lo voglio fare parlando di Eddie Kingston. Kingston è stato in Giappone al prestigioso, diciamo la verità, il torneo più prestigioso del Giappone, il G1 Climax. Il Climax, ufficialmente riconosciuto dal 1991, è un torneo durissimo che si svolge normalmente nei mesi più caldi, più torridi ed è un torneo che insomma vede tante tante giornate svolgersi per portare due lottatori a una finale. Quello che viene fatto sostanzialmente è un torneo round robin, quindi con dei gironi, in questo caso erano quattro, in molti dei casi passati i gironi erano due, e sostanzialmente si lotta all'interno di questi gironi, si accumulano punti e si va per cercare di ovviamente arrivare alla finale e vincere il torneo. Cosa c'è in palio? A parte una grossa e anche bella coppa messa in palio dalla New Japan, c'è anche la possibilità di andare nel main event dello show più importante per la New Japan, il 4 gennaio al Tokyo Dome, per fare Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom che ovviamente è, diciamo per dirla male, la Wrestlemania della New Japan. In questo contesto quindi Kingston viene lanciato a fare un torneo dal quale potrebbe uscirne come il vincitore e quindi come il papabile sfidante per il titolo di WGP nell'evento più importante del prossimo anno della New Japan Pro Wrestling. È chiaro che Eddie Kingston va là e non vince, cioè, parliamoci chiaro, ci sono dei fior fior di lottatori in Giappone che sono decisamente molto più forti di lui, molto più bravi di lui. Ma lui lo sa. Lui sa che va a fare qualcosa di incredibile, a tratti straordinario. Qualcosa che tanti dei lottatori che lui ha profondamente amato hanno fatto prima di lui. Qualcosa che della All Elite, per esempio, di quelli che non hanno mai avuto il contratto con la New Japan, dell'All Elite, c'è stato John Moxley in uno di questi tornei, c'è stato Lance Archer in uno di questi tornei, ovviamente poi facendo parte della federazione c'è stato anche Jay White, per esempio. Però è un torneo dove ci sono degli ospiti e questi ospiti comunque hanno un bel privilegio. Si tratta di entrare dentro una competizione che davvero è considerata il torneo più importante, più grosso, quello che ti mette più le luci addosso di tutto il Giappone e quindi di una parte fondamentale di tutto il wrestling. In questo caso Eddie Kingston va e si trova in un buon girone, un girone ovviamente non semplice, da cui uscirà anche un semifinalista, un semifinalista contro cui lui perderà malamente, come sempre accade, cioè Evil, però un torneo da cui riesce a uscire con quattro vittorie su otto match. Quindi quattro match li ha vinti e quattro match li ha persi. Di questi quattro match, ovviamente vinti, si porta a casa una bella vittoria contro Shingo Takagi, ex campione di WGP e comunque un nome sempre di spicco della federazione. Si porta a casa una vittoria in uno dei match più belli in assoluto contro Enare, che ha cambiato look e atteggiamento proprio per questo G1 Climax ed è tornato molto forte in realtà. Mi è piaciuto tanto anche Enare e la battaglia che hanno fatto loro è stata stupenda. Quello è un match assolutamente da recuperare Kingston contro Enare. Si è portato a casa una vittoria contro Mikey Nichols e questo ne ha vinti comunque due anche lui di match, ma si porta a casa anche una vittoria contro Tamatonga, che è uno di quei lottatori che in New Japan sta vivendo da un anno, un anno e mezzo a questa parte, una rinascita molto amato dal pubblico, un lottatore che davvero ha una grande importanza da un punto di vista proprio della dinamica globale della New Japan. Quindi, beh, quattro vittorie davvero importanti. Poi, è chiaro, si è fatto anche le sue sconfitte, ha perso appunto contro Evil, ha perso un match clamorosamente bello contro Tomoiro Ishii, anche quello recuperatelo, una bella, bellissima battaglia. Poi, ha perso anche, ovviamente, logicamente, contro David Finlay, che ha passato il turno proprio grazie alla vittoria contro Eddie Kingston. I match non sono stati l'unica cosa interessante. L'ho fatto anche per un giorno da guest commentator, quindi è andato vicino al tavolo di Kevin Kelly a parlare, a raccontare i match, a raccontare anche di questa sua esperienza incredibile. È stato anche a conoscere uno dei suoi eroi, Kawada, uno dei Four Pillars of Heaven, che lui, ovviamente, ama alla follia, essendo un grande amante della All Japan Pro Wrestling. Insomma, Eddie Kingston è andato e ha fatto molto bene, si è divertito tanto. Una cosa importante è che quando lo hanno annunciato per la prima volta, il pubblico è esploso letteralmente, ma quando lui è andato là, è andato a lottare, è andato a comportarsi come tecnicamente uno si aspettava ci si dovesse comportare, beh, è arrivato un Eddie Kingston che ha superato le aspettative. Ha lottato veramente da giapponese, old school, senza freni, senza mai fermarsi, dandone un sacco e prendendone un sacco, come tutti quei tape che aveva visto lui, di Junaki Yama, di tutti gli altri grandi eroi che ha amato tanto nella sua vita prima di questa esperienza e che ovviamente da ora in poi amerà ancora di più. È chiaro che adesso può tornare, può rimettere le sue mire al titolo della Ring of Honor di Claudio Castagnoli, oppure può fare davvero tutt'altro, può fare praticamente quello che gli pare. Credo che i suoi impegni siano terminati in Giappone con il termine del Climax e ora tornerà qua per trovare il suo nuovo spazio che sia a Dynamite Collision, che sia in Ring of Honor, insomma, uno spazio che sicuramente meriterà perché ha portato la bandiera della All Elite in un posto molto duro, molto difficile e ha fatto davvero un lavorone. Quindi complimenti a Eddie Kingston e un grandissimo grazie per l'opera che ha fatto proprio per tutti quanti noi che in qualche modo cerchiamo di rappresentare il lavoro dell'All Elite Wrestling, chi più chi meno. È stato bello, è stato emozionante, spero che sia stato bello anche per voi il suo percorso, valutate quindi di mettere un like a questo video, di commentare dicendoci se avete seguito o meno le geste di Kingston, se vi siete anche solo informati, se volevate sapere di più e ora andrete a cercare quei match di cui vi ho parlato, fatecelo sapere perché è davvero importante qui sotto nei commenti. Ovviamente valutate anche le opzioni abbonamento, sono giornate un po' complicate, siete un po' tutti al mare, state facendo un po' altre cose, però se avete tempo e spazio per pensare a noi, noi vi ringraziamo veramente di cuore. Grazie quindi per essere stati anche qui e anche oggi, noi ci risentiamo molto molto presto, abbiamo una road to Wembley da seguire, abbiamo tantissime cose che ci aspettano all'orizzonte, quindi ripartiamo come se non ci fossimo mai fermati perché spoiler, non ci siamo mai fermati. Grazie di cuore da parte mia, sono Stefano, la voce di IW Italian Podcast, noi ci risentiamo alla prossima.